Faccio un altro caffè. Ti faccio il latte con i biscotti? No. Io prendo una crema caffè. Non c'è la crema caffè. È la sotto. Nella bottiglia di vetro. Oggi non si fai a scuola. Oggi non si fai a scuola. Oggi non si fai a scuola. Non si fai a scuola. Dove mi va? Dove mi va? I cani. Ho! . . 3, 2, 1, stop. Antonio! Ecclesiante.